Allora benvenuti a tutti ragazzi e ragazze su Beacoltech in questo video parliamo di architettura e disposizione dei cilindri dei motori a combustione interna infatti ce ne sono diversi e ognuno ha le sue peculiarità ma prima di continuare con il video come al solito vi invito a iscrivervi al canale per supportarmi e non perdervi i prossimi approfondimenti e soprattutto anche lasciate un like se il video vi sarà piaciuto Allora esistono diverse tipologie di disposizione dei cilindri nei motori a combustione interna questo viene fatto in quanto solitamente i motori automobilistici o comunque per veicoli non sono monocilindrici ma hanno un frazionamento cioè la cilindrata totale del motore è divisa tra in più cilindri cioè magari un motore 2000 cilindrata che ha 4 cilindri avrà una cilindrata unitaria di 500 cm3 ma la cilindrata totale è divisa in vari cilindri questo si fa per varie ragioni che magari approfondiremo nel prossimo video però sostanzialmente ci sono vari modi per ottenere un frazionamento della cilindrata del motore allora il modo più semplice è appunto quello di disporre i cilindri in linea infatti la prima tipologia sono i motori in linea qui ho rappresentato un motore 4 cilindri in linea L4 un motore di questo tipo come dice lo stesso nome i cilindri sono disposti in parallelo l'uno di fianco all'altro qui ci sono 4 cilindri questo è l'albero motore ad esempio di un 4 cilindri al quale sono collegati le bielle e i pistoni che ne comanda il movimento e come vedete appunto sono 4 uno di fianco all'altro questa tipologia di disposizione di cilindri è adatta perché per la maggior parte dei veicoli viene utilizzata per contenere i costi è un motore in architettura poco costosa in quanto è presente una sola testata essendoci una sola bancata con i cilindri una sola testata gli impianti di scarico e aspirazione sono parecchio semplici da costruire da progettare ed è un motore infatti tra i più diffusi questa tipologia di motori va bene per frazionamenti non eccessivi cioè un motore in linea va dai 2 cilindri in linea 3 cilindri, 4 cilindri in linea 3 e 4 sicuramente più diffusi fino ad arrivare al 6 cilindri in linea presenti oggi sul mercato oltre si preferisce adottare altre soluzioni perché un motore a 8 cilindri in linea ad esempio più di 6 cilindri in linea diventerebbe eccessivamente steso in senso longitudinale c'è un motore molto lungo è difficile da posizionare in automobili moderne dove gli spazi devono essere sfruttati al meglio un altro problema di questo motore soprattutto nei vicoli sportivi è la sua altezza e infatti si arriva alla soluzione successiva quella dei motori AV in questa tipologia di motori l'albero motore è unico, centrale che comanda i pistoni, le belle pistoni ma in questo caso come vedete all'immagine l'albero motore comanda due bancate separate una a destra e una a sinistra l'angolo tra di loro, tra le due bancate identifica l'angolo dell'AV esistono motori AV di 60 gradi, di 90 gradi e così via e anche 180 gradi come vedremo dopo allora i vantaggi di un motore AV sono sicuramente la contenuta dimensione longitudinale in quanto qui per esempio ho riportato un V6 e avrà la dimensione longitudinale più o meno di un 3 cilindri in linea però in realtà si hanno 6 cilindri sicuramente si andrà a occupare più spazio in larghezza a causa dell'apertura dell'AV e il motore inoltre sarà anche più compatto in altezza in quanto le bancate sono inclinate quindi si perde un po' dell'altezza tipica di un motore a cilindri disposti in linea questa tipologia di motori è più costosa intanto perché sono presenti più componenti e nelle due bancate significa che devono essere presenti due testate due sistemi di distribuzione per delle valvole e gli impianti di scarico e di aspirazione che devono essere contenuti e entrare all'interno della via anche e all'esterno sicuramente sono più costosi sia da progettare che da realizzare anche il sistema di cinghie e di componenti accessori è tutto un po' più complicato i motori AV più diffusi in ambito automobilistico oggi sul mercato sono sicuramente i motori V6, i motori V8, i motori V10 e che ancora è rimasto all'estino qualche raro V12 ma si teme che compariranno presto a causa delle normative di inquinamento ma questo è un altro discorso lo approfondiremo in altri video un'altra tipologia di motori è appunto quella dei motori boxer da non confondere col motore AV di 180 gradi cioè il motore piatto AV infatti la differenza peculiare di questi motori boxer è che sono disposti orizzontalmente è presente un albero motore al centro e i cilindri sono orizzontali come vedete in questa immagine qua quindi albero motore, pistone, destro e sinistro bancata destra e bancata sinistra e così anche un motore AV immaginate con quest'angolo pari a 180 gradi la differenza tra boxer e motore AV è il movimento dei pistoni e infatti il vantaggio del motore boxer è che i pistoni sono collegati all'albero motore su due perni di biella separati come ho disegnato qui questo pistone è il suo perno di biella qui, quest'altro pistone è il suo perno di biella qui al contrario di un motore AV di 180 gradi che sono collegati sullo stesso perno questo discorso lo approfondiremo quando spiegherò magari nel dettaglio il montaggio e comunque come è costruito un albero motore però si capisce facilmente che in caso del motore boxer viene chiamato anche a cilindri contrapposti perché i due pistoni hanno un movimento opposto un movimento contrapposto cioè entrano sempre entrambi o verso l'esterno o verso l'interno questo fa sì che il motore sia naturalmente equilibrato sulle forze di inerzia e non abbia bisogno di contralberi di equilibratura ma anche questo è un argomento che richiede tantissime dettagliate descrizioni lo vedremo in altri video sicuramente mentre un motore AV di 180 gradi o entrambi i pistoni andranno in una direzione o da un lato o dall'altro un vantaggio dei motori boxer fondamentale è che essendo un motore praticamente piatto molto corto diciamo in altezza si estende molto in larghezza quindi ha il problema degli spazi in larghezza quindi sul sistema di sospensioni deve essere diciamo progettato accuratamente però l'altezza molto ridotta ne consente un montaggio più in basso nella vettura questo predilige l'handling cioè la guidabilità e le prestazioni dinamiche della vettura ne hanno un vantaggio molto molto grande esistono motori boxer tipicamente a 6 cilindri o 4 cilindri motori boxer 4 cilindri ad esempio quelli montati su Subaru o a 6 cilindri per esempio di Porsche infine i più rari motori W sono praticamente un po' come l'unione di due motori a V su uno stesso albero di trasmissione infatti è presente un albero di trasmissione centrale che comanda 4 bancate in realtà 1, 2, 3, 4 però due di queste unite a 2 a 2 su una stessa testata quindi effettivamente sono due bancate ma all'interno in ognuna scordano due serie di pistoni è un motore un po' particolare molto complesso sono rari per macchine molto costose mi viene in mente il motore W16 tipico della Bugatti Bayron anche in questo caso questo sistema contribuisce a diminuire notevolmente le dimensioni in lunghezza immaginate un 16 cilindri a V classico o addirittura un 16 cilindri in linea in questo caso la dimensione è simile a quella di un 5 cilindri in linea queste sono quindi le disposizioni di cilindri per motori alternativi a pistoni poi ci sono anche i motori rotativi quindi questo è il famoso Wankel ma sicuramente ne farò un video molto approfondito dalle sue particolarità quindi anche per questo video è tutto queste sono le principali architetture oggi in commercio quindi la saprete quando sentite nominare un motore in linea, un motore a V, un motore boxer e un po' come sono costruiti e quali sono i loro vantaggi e svantaggi sicuramente approfondirò ogni singolo architettura in altri video perché ovviamente gli argomenti da trattare sono tantissimi questa è diciamo una panoramica di base quindi iscrivetevi al canale se non volete perdervi i prossimi video o se approfondimenti anche su questo argomento lasciate un like, commentate per qualunque dubbio, curiosità o magari qualche argomento sul quale vi piacerebbe che facessi un video in particolare vi saluto a tutti e vi auguro un buon Natale ciao